gigimear in pipistrello quella mattina con la tramontana dopo i 40 non ci si scarza più il fazzoletto da collo tirato in su e rivoltato con cura fin sotto il naso un paio di grossi guanti inglesi nelle mani ben pasciuto liscio e rubicondo aspettava sul lungotevere dei mellini il tram per portapia che doveva lasciarlo come tutti i giorni in via pastrengo innanzi alla corte dei conti overa impiegato ponte di nascita ma purtroppo senza più né conteane contanti gigimear aveva nella beata incoscienza dell'infanzia manifestato al padre il nobile proposito di entrare in quell'ufficio dello stato credendo allora ingenuamente che fosse una corte in cui ogni conte avesse il diritto d'entrare è noto a tutti ormai che i tram non passano mai quando sono aspettati piuttosto si fermano a mezza via per interruzione di corrente o preferiscono di investire un carro o di schiacciare magari un pover'uomo bella comodità non per tanto tutto sommato quella mattina intanto tirava la tramontana gelida tagliente e gigimear pestava ai piedi guardando l'acqua ghiacciata del fiume che pareva sentisse un gran freddo anch'esso poverino lì come in camicia tra quelle dighe rigide scialbe della nuova arginatura come diavolle din 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 ecco il tram e gigimear si disponeva a montarvi senza farlo fermare quando nel nuovo ponte cavur si sentì chiamare a gran voce gigim gigim e vide un signore che gli correva incontro gestendo come un telegrafo d'asta il tram se la filò e compenso gigimear ebbe la consolazione di trovarsi tra le braccia ad uno sconosciuto suo intimo amico a giudicare dalla violenza a giudicare dalla violenza con cui si sentiva baciato là là sul fazzoletto di seta che gli copriva la bocca t'ho riconosciuto subito sai gigim subito ma che vedo già venerando tutto bianco e non ti vergogni un altro bacio permetti gigione mio permetti gigione mio per la tua santa canizie stavi qua fermo mi pareva che stesse ad aspettarmi quando ho visto alzar le braccia per montare su quel demonio mi è parso un tradimento mi è parso già fece il mear forzandosi a sorridere andavo in ufficio mi farai il piacere di non parlare di porcherie in questo momento come? così te lo comando io pregare sempre che c'entra sai che sei un bel tipo? sì lo so ma tu non m'aspettavi è vero? ah ti vedo all'aria non m'aspettavi? no per dire la verità sono arrivato iarsera e ti porto i saluti di tuo fratello il quale ti faccio ridere voleva darmi un biglietto di presentazione per te come dico per gigione ma sa che io l'ho conosciuto prima di lei per modo di dire amici d'infanzia per dio ci siamo rotti tante volte reciprocamente la testa compagni poi di università la gran padova gigioni ti ricordi? il campanone che tu non sentivi mai mai dormendo come un diciamo ghiro eh? ti toccherebbe porco però basta una volta sola lo sentisti e ti parve che chiamasse al fuoco bei tempi tuo fratello sta benone sai grazie a dio abbiamo combinato insieme un certo affaruccio e sono qua per questo oh ma tu che hai? sei funebre hai preso moglie? no caro esclama Gigi Mehar riscotendosi stai per prenderla sei matto? dopo i quaranta neanche per sogno quaranta e se fossero cinquanta Gigione? e sonati ma già tu hai la specialità di non sentir sonare mai niente nelle campane e negli anni me ne scordavo cinquanta cinquanta caro te l'assicuro io sonati sospiriamo la faccenda comincia a farsi un po' seria sei nato aspetta nell'aprile del 1851 è vero o non è vero? dodici aprile maggio se permetti e 1852 se permetti corresse il Mehar sillabando indisfettito o vuoi saperlo meglio di me adesso? dodici maggio 1852 dunque finora 49 anni e qualche mese e niente moglie benissimo io si sai ah una tragedia ti farò schiattare dalle risa restiamo intesi intanto? che tu mi hai invitato a pranzo dove divori di questi tempi? sempre del vecchio Barba? ah esclamò con crescente stupore Gigi Mehar sai anche del vecchio Barba? c'eri forse anche tu io da Barba? come vuoi che ci fossi se sto a Padova? me l'hanno detto e mi hanno raccontato le belle prodezze che vi fai con gli altri commensali in quella vecchia devo dire bettola macelleria trattoria? bettola bettolazza rispose il Mehar ma adesso ah se devi destinare con me bisogna che avverta a casa mia la serva giovane eh no vecchia caro vecchia e da Barba sai non ci vado più e prudezze basta da tre anni ormai a una certa età dopo i quaranta dopo i quaranta bisogna avere il coraggio di voltare le spalle a un cammino che seguitando ti porterebbe al precipizio scendere va bene ma pian pianino pian pianino senza ruzzolare ecco vieni su sto qua ti fa vedere come mi son messa per benino la casetta pian pianino per benino la casetta cominciò a dire l'amico salendo la scala dietro Gigi Mehar ma tu mi parli anche in diminutivi adesso e sei così grosso così superlativo povero gigione mio che t'hanno fatto t'hanno bruciato la coda vuoi farmi piangere ma fece il Mehar aspettando sul piena rotolo che la serva venisse ad aprire la porta bisogna prenderla ormai con le buone questa vitaccia carezzarla carezzarla con i diminutivi o te la fa non voglio mica ridurmi nella fossa a quattro piedi io ah tu credi l'uomo bipede scattò l'altro a questo punto non lo dire gigione so io che sforzi faccio a certi momenti a tenermi ritto su due zampe soltanto credi amico mio a lasciar fare alla natura noi saremmo per inclinazione tutti quadrupedi la meglio cosa più comodi ben posati sempre in equilibrio quante volte mi butterei a camminare a terra così con le mani puntate gattoni questa maledetta civiltà ci rovina quadrupede io sarai una bella bestia selvaggia quadrupede ti sparerei un paio di calci nel ventre per le bestialità che hai detto quadrupede non avrai moglie né debiti né pensieri vuoi farmi piangere me ne vado gigimear intontito dal buffone scaloquela di quel suo amico piovuto dal cielo lo osservava mettendo a tortura la memoria per sapere come diamine si chiamasse come e quando lo avesse conosciuto a Padova da ragazzo o da studente d'università e passava e ripassava in rassegna tutti i suoi intimi amici d'allora in vano nessuno rispondeva alla fisionomia di questo non ardiva intanto di domandargli uno schiarimento l'intimità che esso gli dimostrava era tanta e tale che temeva ad offenderlo si propose di riuscirvi con l'astuzia la serva tardava ad aprire non si aspettava il padrone così presto di ritorno gigimear sono di nuovo e quella venne alla fine sabattando vecchia mia le disse il near eccomi di ritorno e in compagnia apparecchierai per due oggi e disimpegnati con questo mio amico che ha un nome curiosissimo non si scherza vada antropofago capibarbi cornipede e scramò l'altro con un versaccio che lasciò la vecchietta perplessa se sorridere o farsi la croce e nessuno vuol saperne di più di questo mio bel nome vecchia i direttori delle banche arricciano il naso gli strozzini strabigliano soltanto mia moglie è stata felicissima di prenderselo ma il nome soltanto beh le ho lasciato prendere me no sono troppo bel giovane per l'anima di tutti i diavoli su gigione poiché hai cotesta debolezza mostrami adesso le tue miserie tu vecchia subito biada la bestia il neale sconfitto se lo portò in giro per le cinque stanzette del quartierino arredate con cura amorosa con la cura di che non voglia trovare nulla da desiderare fuori della propria casa fatto il proponimento di diventar chiocciola salottino camera da letto stanzino da bagno sala da pranzo studiolo nel salottino il suo stupore la sua tortura sacrebbero nel sentir parlare l'amico delle cose più intime e particolari della sua famiglia guardando le fotografie disposte sulla mensola gigione vorrei un cognato come questo tuo sapessi quant'è birbone il mio tratta forse male tua sorella tratta male me e gli sarebbe così facile aiutarmi in questi frangenti ma scusa disse il mear io non ricordo più come si chiami tuo cognato lascia fare non te lo puoi ricordare non lo conosci sta a padova da due anni appena sai che mi ha fatto tuo fratello tanto buono con me mi aveva promesso aiuto se quella canaglia mi avesse avallato le cambiali lo crederesti ma ha negato la firma e allora tuo fratello che alla fin fine benché amicissimo è un estraneo ne ha fatto a meno tanto sei indignato è vero che il nostro negozio è sicuro ma se ti dicessi la ragione del rifiuto di mio cognato sono ancora un bel giovane non puoi negarlo simpaticone non fa per dire bene la sorella di mio cognato ha avuto la cattiva ispirazione di innamorarsi di me poverina ottimo gusto ma poco discernimento figurati se io basta sei avvelenata morta domandò il mea restando no ha vomitato un pochino ed è guarita ma io capirai non ho potuto mettere più piede in casa di mio cognato dopo la tragedia mangiamo santo dio sì o no io non ci vedo più dalla fame al lupo poco dopo a tavola gigimea oppresso dalle espansioni d'affetto dell'amico che lo caricava di male parole e per miracolo non lo picchiava cominciò a domandargli notizie di padova e di questo e di quello sperando di fargli uscire di bocca il proprio nome così per caso o sperando almeno nell'esasperazione crescente di punto in punto che gli avvenisse di distrarsi dalla fissazione di venirne a capo parlando d'altro e dimmi un po' è quel Valverde direttore della banca d'Italia con quella moglie bellissima e quel magnifico mostro di sorella guercia per giunta se non mi inganno ancora a padova l'amico a questa interrogazione scoppiò a ridere a crepapelle che cos'è riprese il meare incuriosito non è forse guercia sta zitto sta zitto pregò l'altro che non riusciva a frenare l'erisa come in una convulsione guercissima e con un naso di oliberi che le lascia vedere il cervello è quella quella chi mia moglie Gigi Mea restò intronato e poteva malapena balbettare qualche sciocca scusa ma quegli riprese a ridere più forte e più a lungo di prima alla fine si inquietò agglottò le ciglia trasse un profondo sospiro caro mio disse ci sono eroismi ignorati nella vita che la più sbrigliata fantasia di poeta non potrà mai arrivare a concepire eh sì sospirò il meare hai ragione comprendo non comprendi un corno negò subito l'altro credi che io voglia alludere a me io l'eroe tutt'al più la vittima potrei essere ma neppure l'eroismo è stato quello di mia cognata la moglie di Lucio Valverde senti un po' cieco stupido imbecille io no io io potei lusingarmi che la moglie di Lucio Valverde si fosse innamorata di me fino al punto di fare un torto al marito che in coscienza puoi crederlo Gigi se lo sarebbe meritato ma che ma che sai chi era invece disinteressato spirito di sacrificio sta a sentire Valverde parte o meglio finge di partire come si fa di solito intesa certo con lei e lei allora mi riceve in casa venuto il momento tragico della sorpresa mi caccia in camera della cognata la quale accolgendomi tutta tremante e putibonda aveva l'aria di sacrificarsi anche lei per la pace e per l'onore del fratello io ebbi appena il tempo di gridare ma abbia pazienza signora mia com'è possibile che Lucio creda sul serio non potei finire Lucio erruppe furibondo nella camera e il resto te lo puoi immaginare e come esclamò Gigi Mehar tu col tuo spirito e le mie cambiali gridò l'altro le mie cambiali in sofferenza di cui il Valverde mi accordava la rinnovazione per le finte buone grazie della moglie ora me le avrebbe protestate ipso facto capisci e mi avrebbe rovinato vilissimo ricatto non ne parliamo più ti prego in fin dei conti visto e considerato che non ho neppure un soldo di mio e che non ne avrò mai visto e considerato che non ho intenzione di prendere moglie come lo interruppe a questo punto Gigi Mehar se hai sposato io io no davvero lei mi ha sposato lei sola io per conto mio glielo ho detto avanti patti chiari amici cari lei signorina vuole il mio nome e se lo pigli pure non so proprio che farmene ma basta così che rischiò Gigi Mehar gongolante non c'è altro prima si chiamava Valverde e ora si chiama purtroppo sbuffò l'altro alzandoci da tavola ah no senti esclamò Gigi Mehar non potendone più e prendendo il coraggio a due mani tu mi hai fatto passare una mattinata deliziosa io ti ho accolto come un fratello ora mi devi fare un favore vorresti per caso in prestito mia moglie no grazie voglio che tu mi dica come ti chiami io come mi chiamo io domandò l'amico sentendosi cascar dalle nuvole e appuntandosi l'indice di una mano sul petto quasi non credesse a se stesso e che vuol dire non lo sai non ti ricordi più no confessò avvilito il Mehar scusami chiamami uomo più smemorato della terra ma io proprio potrei giurare di non averti mai conosciuto ah sì benissimo benissimo rispose quegli caro gigione mio qua la mano ti ringrazio con tutto il cuore del pranzo e della compagnia me ne vado senza dirlo figurati tu me lo dirai per dio scattò Gigimear balzando in piedi mi sono torturato il cervello un'intera mattinata non ti faccio uscire di qua se non me lo dici ammazzami rispose l'amico impassibile tagliami a pezzi non te lo dirò via si buon riprese cangiando tono il Mehar non avevo mai sperimentato prima d'ora guarda questa mia mancanza di memoria e ti giuro che mi fa una penosissima impressione tu in questo momento rappresenti un'incuba per me dimmi come ti chiami per carità fatte la pesca te ne scongiuro vedi la dimenticanza non mi ha impedito di farti sedere alla mia tavola e del resto quando anche non ti avessi mai conosciuto quando anche tu non fossi mai stato amico mio lo sei diventato adesso che carissimo credi sento per te una simpatia fraterna ti ammiro ti vorrei sempre con me dunque dimmi come ti chiami è inutile sai concluse l'altro non mi seduci si ragionevole vuoi che mi privi adesso di questo inatteso godimento di farti restare cioè con un palmo di naso senza sapere a chi tu abbia dato da mangiare no via pretendi troppo e si vede proprio che non mi conosci più vuoi che non ti servi rancore dell'indegna dimenticanza lasciami andar via così vattene via subito allora te ne scongiuro esclamò Gigi Mehar esasperato non ti posso più vedere innanzi a me me ne vado sì ma prima un bacetto Gigione me ne riparto domani non te lo do gridò il Mehar se non me lo dici basta no no basta e allora addio eh troncò l'altro e se non andò ridendo e voltandosi per la scala a salutarlo con la mano ancora una volta e allora Grazie a tutti